Il primo comandamento esige l'adorazione esclusiva con l'unico vero Dio. Risultano in contrasto con questo principio l'ateismo che si trova dominante in tutti i popoli. L'indifferenza religiosa, l'idolatria, il satanismo, la superstizione. Quindi riguarda la superstizione possiamo dire che vi sono forme diverse. Abbiamo la consultazione, la chiromagia, l'interpretazione dei presaggi. La superstizione può essere un disordine grave e alle volte leggero, ma sempre contraria alla fede e alla sana ragione. L'uomo a Dio, padre misericordioso, preferisce idoli di oro e d'argento, come dice la Sagra Scrittura, e nelle difficoltà ricorre alla superstizione e alla magia. Abbiamo già accennato altre volte che la magia è un'ottima professione che rende molto bene, ma sembra a discapito del cliente. Non avrai altro Dio fuori di me. Abbiamo anche detto che Dio parte da un concetto della vita matrimoniale. Io e tu, tra me e te nessun altro. Al Dio vero l'uomo preferisce gli dèi stranieri, un posto onorifico nella società, una bramosia del denaro, godere il piacere delle passioni. San Paolo avverte che se vogliamo il regno di Dio dobbiamo rinunciare alle fornicazioni, all'impurità, al libertinaggio. Al contrario, nel nostro cuore deve regnare amore, gioia, pazienza, benevolenza. Padre Pio vive l'unione con Dio tanto da scrivere le lettere in chiesa, ora è davanti a Gesù Crucifisso, ora è davanti a Gesù Sacramentata. Ad una sua figlia spirituale, Margarita Tresca, che si lamenta che, dopo tante sofferenze, preghiera di una vita intensa, sente la certezza in sé di essere stata abbandonata da Dio. E poi Padre Pio risponde a questa lettera, non è esatto quello che dici, perché Dio è in te e tu sei in Lui. Che bella definizione. E l'augurio che darei a ciascuno di voi, a cominciare da me, Dio è in me e noi siamo in Lui. E poi Padre Pio, per spiegare questo concetto, in una lettera porta un'immagine del viandante che sta sulla nave, richiuso nella sua gabbina, e sento soltanto il rumore dei motori, ma non si accorge se la nave cammina o è ferma. e poi si viene sballottolato da una parte e dall'altra e pensa che sta andando a fondo. E Padre Pio dice, aspetta, esci fuori, sale all'aperto e vedrai che la nave cammina e che il rumore che sente sono i motori che la fanno camminare e che tutto è radioso e sei nella luce di Dio. Grazie a tutti! Grazie a tutti.